Aumentano i giorni, aumentano gli espositori e quindi tra l'altro tra tutti i dati che abbiamo ricevuto quest'anno abbiamo una consacrazione definitiva dell'area del Parco Fluviale. Se fino a qualche anno fa c'era una grandissima adizione da parte degli utenti, ma gli espositori facevano un po' più fatica a crederci, quest'anno abbiamo superato i dati del Bonolis. Quindi è un anno record a tutti gli effetti per noi. Abbiamo deciso poi di avviare la fila dell'agricoltura un giorno in più, il 24 di aprile e alle ore 18. Questo ci consente di sistemare meglio l'area rispetto alla mattina perché abbiamo il tempo necessario per sistemare bene i percorsi per gli utenti. Ci sono tante novità, non ci saranno più concerti su palco, ma abbiamo destinato l'area istituzionale solo ai convegni, mentre faremo della musica itinerante nel pomeriggio. C'è l'utilizzo anche della casetta del Comune di Teramo per laboratori per i più piccoli, sia della mattina che del pomeriggio. Quindi sono tante le novità che ci aspettano quest'anno. È una 33esima edizione che però guarda già al futuro perché in conferenza ha analizzato il fatto che l'area sia ormai satura. Sì, è satura. Abbiamo circa 25 espositori nazionali, importanti, marchi importanti, che avrebbero voluto partecipare ma che hanno necessità di un'area maggiore. Quindi stiamo già col comitato aumentando l'area della fiera per il prossimo anno. Abbiamo già delle idee molto chiare in mente. E chiaramente con l'aumento delle aree espositive il nostro obiettivo è di aumentare anche la qualità dell'esposizione, perché poi si tratta di fare una crescita che sia dal lato della qualità sia dal lato delle dimensioni della fiera stessa. Sui parcheggi io continuo ad invitare chiaramente tutti i cittadini, tutti i fruitori a parcheggiare al parcheggio San Francesco e al parcheggio San Gabriele che hanno dei prezzi convenzionati, 1 euro a ora e 5 euro per tutto il giorno. E poi ci sono chiaramente le aree della Madonna delle Grazie, tutte le aree a parcheggio pubblico. Non vanno assolutamente utilizzati i parcheggi del parcheggio multipiano dell'IDOL e i parcheggi dello Smeraldo, perché anche per rispetto della comunità che chiaramente vive in quell'area non sono quelle assolutamente le aree dove parcheggiare. Abbiamo rafforzato tantissimo la sorveglianza appunto su queste aree per creare meno disagi possibili, soprattutto a chi vive e a delle attività commerciali sull'area dello Smeraldo in particolare.